Questo è il signor Marco. E questo è l'appartamento che vorrebbe affittare. Basta una telefonata a Dove Vivo, la società che gestisce centinaia di alloggi in Italia. Dove Vivo va a visionare l'appartamento. Entro sette giorni, gli fa avere una proposta per affittare la proprietà con un contratto di locazione a lungo termine, che garantisce in maniera chiara il rendimento effettivo dell'immobile. Dove Vivo diventa l'inquilino di Marco e fa intervenire la sua squadra di architetti, designer e professionisti per trasformare il suo appartamento con nuovi mobili alla moda, impianti a norma, un tocco di tecnologia e di buon gusto. E tutto senza pensieri né perdite di tempo per Marco. Ha fatto tutto Dove Vivo, che si è occupato dell'adventimento di tutti gli obblighi burocratici e amministrativi e ha anche assicurato l'immobile contro ogni tipo di danno. Dove Vivo è l'inquilino ideale in grado di offrire affidabilità e stabilità. Marco ha un affitto certo e pagato puntualmente, eliminando sfitto, costi di intermediazione, perdite per morosità e altri oneri legati alla conduzione. I clienti sono studenti e giovani professionisti alla ricerca di appartamenti confortevoli e sicuri da condividere con chi ha le loro stesse abitudini. Dove Vivo diventa il loro punto di riferimento per tutta la durata del contratto. Il canone è all-inclusive, così possono concentrarsi solo sulla carriera e sugli studi. Dove Vivo gestisce anche il rapporto con le amministrazioni condominali e con i coinquilini e nel caso in cui fosse necessaria della manutenzione la organizza con il suo team. E Marco? Beh, Marco non deve fare altro che godersi la rendita del suo immobile. Se hai un immobile da affittare come lui, contatta Dove Vivo, il tuo inquilino ideale. Dove Vivo. Rooms, apartments and much more.